Stefano Tacconi sta bene, possiamo finalmente dire che ha concluso in bellezza il suo iter riabilitativo, è giunto da noi per una emorragia cerebrale, però naturalmente con la sua forza si è dimostrato davvero anche in questa occasione di essere un numero uno. L'ex portiere della Juventus e della Nazionale Italiana di Calcio Stefano Tacconi è stato dimesso nelle scorse ore da Casa Sollevo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, dove era stato ricoverato il 21 giugno scorso per proseguire il suo lungo iter riabilitativo a seguito dell'emorragia cerebrale che lo aveva colpito nell'aprile del 2022. Prima di partire in compagnia della moglie Laura e del figlio Andrea, Tacconi ha incontrato tutti gli operatori in servizio dell'unità di medicina fisica e riabilitativa, intrattenendosi a salutare medici, infermieri, fisioterapisti e personale sanitario. Stefano è un uomo forte, ha spiegato il primario, Domenico Intiso, ha affrontato il percorso riabilitativo con tanta tenacia, è stato da stimolo e da esempio per gli altri e i risultati si sono visti. Ha colto sempre di buon grado anche il fatto che molti si avvicinassero per delle foto con lui o per scambiare due chiacchiere, ha sottolineato Michele Gravina, medico fisiatra che lo ha conosciuto molto bene in questi mesi. Un paziente forte, un paziente forte, collaborante a tratti, però naturalmente considerato un po' la sua situazione generale, ci aspettavamo ogni tanto degli alti e dei bassi. Però è stato un paziente che ha sposato anche la nostra causa, è stato un paziente da un punto di vista anche umano che ha compreso un po' quelle che erano anche le esigenze di noi riabilitatori. Stefano torna a casa con una grande carica emotiva e fisica. A San Giovanni abbiamo trovato veramente un mondo di emozioni, di aiuto, di forza da parte dei dottori, con la scienza, da parte della fede, con Padre Tio che come sapete siamo molto molto devoti e insomma torniamo a Milano con tutto questo nel cuore.